Abbiamo dei nuovissimi minerali davanti ai nostri occhi ragazzi e andremo a provarli assieme perchè oggi abbiamo i crafting galattici E abbiamo anche dei oggetti che abbiamo sempre sognato di avere in minecraft Quindi dobbiamo per forza di cose superare i 5.000 mi piace Soprattutto se volete che ritornino i saluti con l'hashtag minecraftita perchè stanno per tornare Quindi mi raccomando spaccate il tasto e mi piace ragazzi benvenuti in questo nuovo video Guardate qua che bei minerali super colorati che abbiamo davanti ai nostri occhi Ma partiamo con molta calma e tanto ordine quindi partiamo con i crafting per poi arrivare agli oggetti galattici Però dobbiamo lasciare un bene mi piace e poi so che tanti di voi stanno guardando questi video ma ancora non sono iscritti al mio canale Quindi mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi nessun video Allora ragazzuoli qua partiamo subito perchè noi abbiamo questo cartello Per farti capire come funziona questo mondo prova i crafting che abbiamo all'interno di questi due chest che sono trappet chest Ok non voglio farmi domande partiamo però subito in questo modo abbiamo il primo che è un piccone in ferro ok E il secondo che è un piccone di foglie va bene Allora facciamo subito con il ferro che è quello che servirà per i cosi galattici Perché il piccone in ferro ci dà il piccone di legna? What? E scusatemi il piccone di leaves Dai ragazzi non va bene sta cosa partiamo subito molto male minecraft Ok e quindi già ho capito un pochino come funziona questo mondo Va bene va bene va bene va bene va bene Allora però poi proseguiamo e abbiamo delle foglie con un colorante blu Lo sapete ragazzi in questi video abbiamo crafting Sfidiamo mondi molto strani e tante altre cose molto belle Ma non so mai cosa aspettarmi Quindi vediamo un attimino cosa farà questo crafting Mettiamo qua dentro abbiamo le diamond leaves Quindi abbiamo delle foglie di diamante Allora ragazzi io ve l'ho detto eh Qua noi oggi andremo a vedere robe molto strane Come si rompono? A mano? Ok Quindi ogni foglia di diamante Creata col colorante blu Neanche col diamante Col colorante blu Otteniamo un diamante Però fermi un attimo scusatemi Perché io non ho visto ancora ci sono alberi in giro Che hanno questi oggetti qua Per vediamo un attimino se c'è qualcosa Magari ragazzi lo so Secondo me verso la zona lì del deserto Potremmo magari aver trovato qualcosa Vediamo Perché a me sembra che tutta quanta questa roba sia tranquilla Vediamo c'è qualcuno? C'è qualcosa? C'è nessuno? No non c'è nessun albero di diamante roba strana Va bene Però possiamo proseguire con la chest dopo Allora facciamo così Liberiamoci un attimo l'inventario da oggetti inutili per ora Poi vediamo un attimo cosa possiamo craftare Perché qua abbiamo a quanto pare Credo il crafting dell'albero stesso Allora andiamo a vederlo assieme Vediamo un attimo cosa succede Allora il colorante era in questo modo Se non mi sbaglio Qua il sapling e qua Ok Mysterious sapling Quindi è un sapling misterioso Quindi andiamo avanti con il crafting super misterioso Piazziamolo Bello Ragazzi credo che abbiamo scoperto il crafting dell'albero Con le foglie di diamante Ma che belle sono Sono uno spettacolo E questo qui credo che sia appunto il tronco Che ci vuole un po' per romperlo Però come legno normale Ok ci dà Ci dà il ferro Ok Cioè scusatemi Quindi se lo rompessi con il piccolo e questo qua Dovrebbe darci comunque il ferro Bello ragazzi Abbiamo trovato quindi un albero Misteriosissimo Che non ha neanche bisogno di essere piantato col bone meal Cioè noi basta che lo spammiamo in questo modo Ok Ragazzi abbiamo trovato una fonte di diamanti Pressoché infinita Ma non solo Anche di iron E poi sono bellissimi Ragazzi ma quanto sono belli sti alberi Io voglio un bioma Di soli alberi fatti in questo modo Bello Ve l'ho detto Oggi Craftiamo robe molto strane Siamo praticamente in un 17 anche Quindi questa è la cosa bella ragazzi Che questi crafting Sono totalmente unici Ed è uno spettacolo Tanta roba Mi piace Mi piace Mi piace Allora Mettiamo via giù le robe comunque ragazzi Perché così andiamo a vedere altre robe Andiamo a testare altri oggetti bellissimi Prova A tenere entrambi i piccoli di diamante in mano Ok Quindi abbiamo due piccoli di diamante in questo caso Quindi uno di qua E uno da questo lato Ok Credo che però a questo punto si debba andare in caverna Caverna Ma ragazzi fermi Spawnano Anche No vabbè Va bellissima sta roba Allora proviamo a rompere un robo Orca Ragazzi È devastante Proviamo a rompere ancora Ok Però se tolgo quello sulla seconda mano Funziona lo stesso questa cosa qua che si scava in più No Però se li tengo entrambi sulla seconda mano Distrugge un 5 per 5 di stone Cosa cavolo è sta roba Perché qua si vede meno Vabbè Vabbè Avete capito un pochino ragazzi Tenere due piccoli di diamante in questo mondo Fa sì che voi distruggete tutto quanto per bene Ma in questo caso Ho scoperto che questi minerali qui Galatici Spawnano direttamente dentro al mondo E si chiamano Galactic Ore Vabbè È devastante Posso scavare anche in diagonale What Wow Ragazzi Wow Veramente Wow È poco da dire anche wow Tanta roba Ma sono curioso di andare a vedere a sto punto I crafting con i Galactic Block di ore Con cosa possiamo fare Cosa possiamo ottenere Da questi Galactic Ore Allora Facciamo così Droppiamo tutto quanto quello che abbiamo nell'inventario qua dentro Anche questi Galactic Ore E ci teniamo solamente un piccone dei due Che è questo qua in diamante Questo qua in ferro possiamo lasciarlo giù E ora Abbiamo quindi questi qua da scavare Allora facciamo così Rompiamo un attimo tutto quanto Da quanto visto Non droppa l'ingotto Però qua abbiamo una Blast Fornace Con all'interno del Coal Quindi molto bene Allora facciamo così Raccogliamo un po' di questi Ore Per romperli si rompono velocemente Non mi sembra ci mettano tanto Magari quanto per esempio La Nederite o altre cose qua del genere Quanto sono belli con gli alberi Sono troppo belli Troppo belli Ovviamente per la fine del video ragazzi Dovete scrivermi qual è il vostro oggetto preferito Perché sono super curioso Però credo che 18-19 pezzi bastino Ok Mettiamo a cuocerli Ok la Blast Fornace sta cuocendo anche super in fretta Vediamo cosa riusciamo a ottenere qua dentro Il Galactic Eingot Ottimo Mi piace Mi piace Abbiamo anche due chest Una è questa Con gli stick già pronti per fare l'oggetto E ha anche questa qui per fare lo scudo Ok Va bene Allora partiamo dal primo oggetto mentre cuoce Allora qua abbiamo la spada Vediamo Spada di Galactic Core Vediamo cosa riusciamo a ottenere con questa super spadona Di Galactic Ore Abbiamo la Galactic Sword Ha 8 di attack damage E 1.2 di attack speed Ciao Cosa sta succedendo? Raga Perché spara dei raggi laser? Scusatemi un attimo Togliamo la fence Shotta i mob E droppa Che cos'è quella roba? Ragazzi Allora facciamo così Questo qua la shotta Cioè praticamente droppano Come uno Ma io se mi avvicino di 5 blocchi praticamente Spara dei raggi laser Sto per dire laggi laser Scusatemi Ma cosa sono sti cosi? Co Spi I mob droppano i loro spiriti Che sono questi mini oggetti qua ragazzi Vediamo con questi spiriti cosa succede Se io premo col tasso destro Thank you for conversation and for Quindi praticamente Se noi Facciamo fuori un mob Otteniamo il suo spirito Con i suoi drop E lo spirito poi servirà per rievocarlo ovunque ne vogliamo Funziona anche con la pecora Riavviciniamoci Anche a lei Funziona anche con la pecora Bello Ci ha droppato la sua anima Sì ragazzi Che spettacolo Bello Ragazzi che bella davvero Poi comunque ha anche 8 attack damage Che è veramente tanto per essere una spada Perché è come se fosse appunto una spada di nederite Ma è tanta roba Tanta Però se la prendiamo così a spadate Ci droppa lo stesso lo spirito Bello Bello Primo oggetto dello spirito della galactic Tanta 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 roba Mi piace Poi proseguiamo Cos'altro abbiamo Prendiamo tutti quanti i lingotti E credo che possiamo fare il piccone e l'ascia Vediamo un attimino cosa riusciamo a fare Allora Piccone In questo modo Uno E poi ci facciamo anche l'ascia Così in questo modo Ottimo E in più Già che ci siamo Craftiamo lo scudo Che comunque è una protezione in più Che ci potrebbe servire Quindi uno E due Ok Galactic shield Ragazzi guardate Che spettacolo Che sono i crafting Del galactic Tanta roba Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Però abbiamo l'ascia E il piccone Sono bellissimi ragazzi Ora facciamo così Avviciniamoci a questo tronco qua Dell'albero Rompiamolo Ci vuole tantissimo romper Sì non capisco il motivo Vediamo Perché ci mette Ci mette veramente tanto Raga Allora Calma Proviamo a rompere tutto quanto Con molto ordine E E E E calma E calmità Non si dice in questo modo Ve lo dire un termine a caso Giusto per parlare Però rompiamo Questo ci manca un solo blocco Rompiamolo 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 Però quest'albero prima non c'era Se non mi sbaglio Come Ragazzi ma Perché sponano alberi A caso Non so se avete fatto caso Ma quest'albero qui È sponato adesso Prima non c'era E ha soprattutto Un tronco Che gli manca Cioè questo piccone Quindi genera Alberi Ogni volta che ne rompi uno Ne genera uno Nelle vicinanze Allora stiamo attenti Qua c'è soltanto Questo albero qui Stiamo molto attenti A questa cosa C'è solo questo albero qui Proviamo a rompere tutto quanto Con molta calma Uno E poi quanti Dovrebbe essere anche un altro tronco Se non mi sbaglio Perché è un albero molto basso Questo Allora avviciniamoci Vediamo un attimino Rompiamolo Vedete Vedete che genera gli alberi Genera alberi No vabbè Bellissimo Genera gli alberi Ogni volta che ne rompi uno Ma è bellissimo Ma è il piccone Dell'ichia Cacchio è quella roba Raga Ah perché Ogni tronco Ogni pezzo di tronco Rotto Genera un albero Neanche Per ogni albero Per intero rotto Ne genera proprio Uno ogni volta Ne ha generato uno Lì vabbè Bellissimo Ragazzi Veramente Bellissimo Questa roba Abbiamo l'ultimo oggetto Però abbiamo il piccone Con noi adesso a provare Andiamo a provare il piccone A questo punto Davvero Ogni cosa che guardo Ragazzi Sta diventando un minerale Ma questo è il piccone definitivo Ma questa è una cosa rotta Ragazzi Cioè è il piccone Più devastante Della storia di minecraft Perché ogni Pezzo di stone Che sto guardando Si trasforma in un minerale Completamente random Senza Che io gli dica nulla Senza che io prima nulla Neanche tasto destro Ragazzi Sto solamente Guardando I minerali Veramente Tanta Ma tanta Roba Ragazzi Spero che questo video Qua di minecraft Vi sia piaciuto Credo che abbiamo appena visto Un mondo Leggendario Mi raccomando Vi lascio un bel Mi piace un bel commento A iscrivervi al canale Se ancora non avete fatto uscire Uno dei due video Qua davanti E noi ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Da Mark è tutto Ciao ciao